Gullà Paolo, portiere del Maramao Caffè, purtroppo prima sconfitta di questa edizione della Champions League, votato però migliore in campo, quindi una prima soddisfazione personale. Prima soddisfazione che però non premia i risultati, ho fatto del mio meglio, però purtroppo non è servito. Si è parlato di grandi parate, avere un grande portiere vuol dire poter puntare in alto magari, quali sono le ambizioni del Maramao Caffè per la Champions? Beh chiaramente arrivare tra le prime due e passare a fare la parte più prestigiosa del progresso, malagolatamente però avevo iniziato male. Grazie mille.